Il film di Paola Cortellesi c'è ancora domani e è un bel film, quindi se volevate sapere questo non c'è assolutamente nulla da dire, andatevelo a guardare, ma perché siete qua? Perché se siete qua volete sapere la parte croccante, cioè quella che non mi è piaciuta e non c'è niente che ha a che fare col film che non mi è piaciuto, il film è bello, quello che non mi è piaciuto siete voi, voi che dopo aver guardato questo film ci avete scaricato addosso una montagna di minchiate e noi ci siamo rotti le palle Perché il film è davvero bello, veramente non ho nulla da dire, però quando sento delle reazioni ad un film come questo, bene, mi si rizzano i capelli, come vedete ne ho tanti, mi si rizzano i peli che ho addosso e lo stomaco mi si inizia a contorcere e questo non ha a che fare con la Cortellesi, non ha a che fare con il film, riguarda solo voi Voi e le vostre stramaledette recensioni di questo film, voi e le vostre stramaledette interviste relative a questo film, voi e i vostri stramaledetti piagnistei che io sono costretto e tutti noi siamo costretti ad ascoltare quando si parla di qualcosa che ha a che fare con un prodotto come questo Ora il film è bello, attenzione sto per spoilerarvi tutto quello che riguarda questo film che peraltro contiene un grande colpo di scena che è la sua fine quindi eh 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 non ascoltatemi se lo volete ancora vedere e se volete ovviamente essere sorpresi dal film e dal finale Però se non è questo il caso e state andando avanti ad ascoltarmi vi prendete le vostre responsabilità Adesso vi racconto che cosa tratta questo film E il film tratta dell'Italia nel 1946 nel secondo dopoguerra in un periodo molto preciso e cioè quello che precede le elezioni a suffragio universale del 46 La tornata elettorale con cui bisognava decidere l'assetto istituzionale italiano, il noto referendum in cui si è dovuto scegliere tra repubblica e monarchia Ma anche l'elezione dell'assemblea costituente quindi di coloro che avrebbero dovuto formare questa nuova Italia che poi l'Italia repubblicana che oggi conosciamo In questo frangente si sviluppa la nostra storia che è una bella storia raccontata peraltro molto bene e resa in maniera non pesante Quindi il film non è pesante, voi siete pesanti quando parlate del film La storia vede come protagonista Paola Cortellesi che è la moglie di un marito molto violento che la picchia, la tratta come un oggetto, la prende a pesci in faccia La obbliga a servire e riverire il proprio padre, quindi il suocero che è allettato e vive ovviamente a casa con i due insieme ai loro figli Due maschi e una femmina, femmina che viene trattata esattamente come la madre se non anche peggio Salvo nel momento in cui sembra che si stia per sposare un buon partito che è il figlio di alcuni commercianti a non bar Si sono arricchiti durante la guerra probabilmente con il mercato nero in modo non pulito ma è sempre un buon partito perché è una famiglia ricca in quella circostanza Soprattutto rispetto a loro che vivono in uno scantinato, in una casa assolutamente misera e che evidentemente sono una famiglia molto povera La vita di questa poveraccia è prendere botte, botte, botte dal marito, farsi trattare come una pezza da piedi e lavorare cercando di portare a casa uno stipendio quanto più alto possibile Facendo mille lavori e cercando di mettere insieme il pranzo con la cena stipendio e soldi che guadagna che poi ovviamente si vede sequestrati dal marito perché è lui a gestire le finanze familiari Ebbene fin qui è una storia italiana, certamente è una storia rappresentativa almeno di una parte di quelle che erano le famiglie italiane e chiaramente non tutte Sicuramente molte di più di quelle che oggi vivono in queste condizioni E qui invece arriviamo al primo problema perché tutte le recensioni di questo film dicono le stesse parole Io mi chiedo se vi hanno mandato a casa un Depliant informativo e quindi i recensori dei film hanno letto queste cose, hanno capito che dovevano dire quelle Oppure se puramente tutti quanti vivete in una buca che sta sotto terra e non uscite mai da lì Perché nelle recensioni quello che io sento dire ai recensori è che beh ma ancora oggi tantissime famiglie stanno in questa condizione La moglie prende le botte dal marito, gli stipendi, i soldi le vengono sequestrati perché lui li amministra meglio Dove vivete? Di grazia no? È interessante, credo che non solo sia interessante ma in qualche caso sia anche una notizia di reato E vi ricordo che grazie a quell'Italia repubblicana che fu scelta in quegli anni e grazie all'Assemblea Costituente che fu eletta Esiste anche l'obbligatorietà dell'azione penale Quindi forse sarebbe meglio farci sapere le cose che vi accadono intorno Se avete la disgrazia di vivere in una parte d'Italia in cui le cose vanno avanti effettivamente ancora così nel 2023 Con la frequenza che ci raccontate in questi interventi Anche perché voglio dire i maltrattamenti familiari sono procedibili d'ufficio quindi non avete scuse se non denunciate queste cose siete complici Lo ripeto per chi non sapesse di cosa parla e sono sicuro che sono tanti anche tra quelli che ci fanno la lezione su come funziona il mondo Se voi siete a conoscenza di maltrattamenti in famiglia dovete denunciarli voi perché basta una vostra denuncia per attivare la macchina della giustizia Se non dovete convincere la persona vittima a fare la denuncia querela no sono procedibili d'ufficio ripeto quindi è interesse della collettività per seguirli anche se la vittima non denuncia Ora io conosco penso qualche migliaio di persone forse diverse migliaia di persone magari sarò fortunato io magari vivo in una bolla di persone illuminate e non lo so Però non conosco così tanta gente che si ritrova con i soldi sequestrati dal marito dal compagno e che si sveglia come la cortellesi nel film con una sberla che gli rivolta la faccia E se lo sapessi se fossi a conoscenza di situazioni come queste non le racconterei in un video recensioni di un film su youtube facendole passare come se fossero una normalità Qui purtroppo io sono costretto ad assistere povero me che devo guardare e ascoltare questi racconti inerme non posso intervenire No mi incazzerei come un dio ma a quanto pare se devo ascoltare le interviste se devo ascoltare le recensioni i commenti a questa pellicola e invece questa è la quasi normalità Non sapete quante persone io conosco in questa condizione qualcuno dice qui su youtube e io sono perfettamente consapevole del fatto che in italia ci siano posti disastrati In cui queste cose forse sono più diffuse che in altre parti d'italia sicuramente è così però io credo che anche chi si trova in quelle condizioni Posto che non credo che molti di questi recensori si trovino in queste condizioni ecco io credo che bisognerebbe anche fare un atto di autocoscienza e di onestà intellettuale E eventualmente riconoscendo di vivere in una zona in un posto in una situazione non rappresentativa della realtà e io vorrei dire per fortuna possiamo dire per fortuna non siamo quell'italia là del 1946 Vabbè voi fate come volete io dico per fortuna e ne sono ben contento e felice ma tra l'altro il film secondo me non ha neanche come intenzione quella di rappresentare questa italia Di uomini violenti che picchiano la moglie come se fosse la normalità io almeno non ci ho trovato questa volontà nel film la stessa migliore amica della cortellesi all'interno della pellicola ha un marito assolutamente normale che ride scherza Si fa anche un po' trattare male per scherzo ovviamente insomma una cosa normale moderna che potremmo osservare oggi e chiamare la normalità Quella è la normalità non quella dei protagonisti del film quindi io conosco non sapete quanta gente conosco che ride e scherza e non si prende a centra in faccia questo lo posso dire sarò fortunato io ma credo che siamo in tanti a poterlo dire Ciò detto in realtà il film ha una storia che è quella che sembra principale che riguarda appunto le vicissitudini di questa famiglia di questa donna con il marito violento e con il suocero che deve accudire Ma poi latente c'è una storia più grande per la verità che inizialmente sullo sfondo e poi con il grande colpo di scemana finale diventa effettivamente la storia principale ed è appunto la storia delle elezioni le prime in Italia a suffragio universale Quindi le elezioni che per la prima volta hanno visto la partecipazione delle donne in Italia che hanno potuto dire la loro mettendo la croce sulla scheda elettorale e quindi partecipando a questo grande esercizio democratico dopo tutto quello che era successo in quegli anni e nei venti precedenti Capirete che chiaramente è una rivoluzione perché di questo si tratta e di questo si deve parlare e il film glorifica questa rivoluzione Cosa succede nel film? Succede che la cortellesi a un certo punto camminando per la città di Roma incontra un suo vecchio amico dell'infanzia probabilmente dell'adolescenza che la ferma e dice no guarda anch'io adesso devo scappare al nord Qui non riesco a lavorare lui faceva il meccanico ma io ho sempre voluto te bla 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 insomma si capisce che le passa un attimo nella testa la possibilità di scappare con quest'uomo lasciando la sua vita precedente Abbandonando il marito che la picchiava ma abbandonando anche i figli il suocero costretto a letto che lei è obbligata a servire e reverire Se fossimo stati lei dalla comodità della nostra poltrona nel 2023 tutti avremmo detto ma che cosa stai a fare lì? Prendi e vai con questo signore nel nord Italia Bene, chiaramente la tua attenzione nel film si concentra su questa storia Anche perché poco dopo lei riceve una lettera che non viene mostrata nel film però si vede che riceve questa lettera che la sconvolge e la fa riflettere ancora di più su una decisione importante che deve prendere Si capisce che lei è tormentata, lo faccio, non lo faccio e tutti pensano che quella lettera provenga ovviamente da quest'uomo che le proponeva magari chissà cosa di andare con lui da un'altra parte Di ricominciare la sua vita e invece sarebbe troppo banale, invece non è questo il destino della Cortellesi, della protagonista del film Perché quella lettera si scoprirà soltanto alla fine, nella scena finale dopo che per tutto il film lei è tormentata ma quel giorno deve fare quella cosa Si capisce che è fondamentale, tu pensi deve partire, dovrà prendere un treno, una nave, chissà cosa Poi quel giorno arriva ma succede di tutto, lei è a messa, pensa di scappare dopo la messa ma nel frattempo il suocero muore e quindi è costretta a tornare a casa di corsa A ricevere tutti i parenti, tutti gli amici, tutti i conoscenti, tutti i vicini che vanno in lutto in questa casa e lei deve uscire perché ha questo impegno improrogabile Che è la sua occasione della vita e non ce la fa, non riesce ad uscire, ogni volta che prova a sgattagliolare fuori dalla porta il marito in qualche modo la incrocia, la vede, la ferma e c'è questa tensione per cui lei non riesce Si capisce che ormai la sera volge al termine, l'impegno è perso però a un certo punto lei si ricorda ma c'è ancora domani da cui il titolo del film E quindi questa cosa che deve fare, che cos'è? Perché se era partire, come fa a partire anche domani? Che cos'è? Beh lo si scopre alla fine Si scopre che quella lettera in realtà non è un biglietto per partire, una richiesta di chissà chi, magari di quel suo amico per seguirlo chissà dove No, quella lettera in realtà è la tessera elettorale, è la tessera elettorale che insieme al suo documento d'identità le consentirà di votare Ovviamente i giorni a disposizione per le votazioni sono due, quindi perso il primo c'è sempre il secondo E questa è la chiusura del film, quello che svela tutta la natura di quella tensione morale interna, di quella sofferenza In questa fiumana di gente che si reca verso il seggio elettorale, si scorge lei, questa donna all'interno di questa calca umana che va a votare E va a votare come se fosse, ed effettivamente è stato un riscatto, il riscatto di tutte le sofferenze e le violenze che ha subito Può scegliere, può partecipare alla creazione di una nuova Italia, è qualcosa di epocale E assolutamente lo è, non c'è alcun dubbio, e non c'è alcun dubbio che questo sia un bel film, anzi un film fantastico, fatto molto bene Che racconta molto bene questa storia, io sono contento di averlo visto perché quando osservo da questi punti di vista Queste vicende storiche che hanno formato l'Italia e il mondo, che non sono poi così lontane, sono l'altro ieri Beh certamente non posso che osservarle con rispetto e ricordandomi che effettivamente tutto ciò che diamo per scontato, beh scontato non lo è E allora cos'è che voglio dire, a parte prendermela con voi quanto siete petulanti e soprattutto quanto siete fuori dal mondo Quando ci raccontate che voi vedete, voi sapete, voi avete visto, voi sentite questa sofferenza dentro di voi Che permea le vostre vite e poi siete degli stronzi inermi che neanche fanno una denuncia per mattrattamenti familiari Quando sono immersi in un contesto sociale dove questi praticamente sono all'ordine del giorno Sto ascoltando voi e non mi sto inventando niente, sto parlando semplicemente di quello che voi dite di vedere O che dite di credere, chissà poi se ci credete per davvero, ma non è solo questo Il punto è che se devo fare una critica, beh la mia critica c'è, è pesante, è pressante ed è molto attuale credo Ma non è rivolta al film, non è rivolta a questo film, questo è un film che c'è La mia critica è nei confronti del film che non c'è, cazzo, perché è quello il film importante Io apprezzo il lavoro della Cortellelli, apprezzo questo film, mi è piaciuto Ma io vorrei vedere la parte 2, vorrei vedere c'è ancora domani 2 Questo voglio vedere, voglio vedere il continuo di questo film Perché non mi basta sapere che le donne hanno acquisito il diritto di voto nel 1946 E che questo è stato un riscatto sociale, non mi basta, questa è storia Io apprezzo la storia, mi piace, soprattutto se è contestualizzata al presente E cerca di far comprendere e capire il presente E per questo ancora di più serve la parte 2 di questo film Che è molto semplice la parte 2 di questo film È che cosa abbiamo ottenuto e fatto con questo diritto di voto Abbiamo fatto l'Italia repubblicana? Bene! Che cosa è successa in questa Italia repubblicana? Come è andata a finire questa storia? Cos'è successo dopo? Che fine ha fatto la figlia della protagonista di quel film? E la nipote? Che fine ha fatto la nipote di quella protagonista del film? E la nipote della nipote? E che fine ha fatto la figlia della nipote? Cosa ci fa con il suo voto? La figlia della nipote oggi? Che deve scegliere tra Giorgia Meloni, Enrico Letta, Lashlein, Salvini Tutti quelli che volete E poi, dopo che ha votato, che cosa succede? Dove è finita quell'Italia del 1946? Che cosa ha ottenuto con quel voto? Dove siamo oggi? Voglio una cartina con un cazzo di punto rosso Che ho scritto Tu sei qui! Altrimenti a che cosa serve la storia? A glorificare la storia del passato? A cosa serve? Se non serve per capire il presente Ma perché avete tutti paura di parlare dell'oggi? E parlate dello ieri? Che è molto confortante Perché è molto confortante vedere il suffragio universale diventare realtà E l'Italia da monarchica diventare repubblicana È molto confortante guardare al passato Quando si stava senza dubbio peggio Almeno sulla carta Raffrontandolo all'oggi E dire guardate ma non è tutto scontato Queste cose le abbiamo guadagnate con il sangue Le abbiamo guadagnate sulla nostra pelle E con la sofferenza Ma io voglio sapere che cazzo c'è dopo E se mi venite a raccontare che dopo è come allora Perché ancora oggi voi ne conoscete tante Di donne che si svegliano con le sberle in faccia E a cui vengono sequestrati i soldi E io mi incazzo Io mi incazzo veramente E ci incazziamo in tanti per davvero Perché gli strumenti per queste cose In una maniera o nell'altra ce li abbiamo Per capirle E a volte parzialmente anche per combatterli Non è tutto perfetto? Lo sappiamo che non è tutto perfetto Soprattutto nel campo della giustizia non è tutto perfetto Ma allora Se ce l'avete con la giustizia Perché non fate un film sulla storia della magistratura italiana? Perché non fate un film per spiegare come funziona la giustizia in Italia? Perché non ce la raccontate? Quella sì che era capricciante Ed è da mettersi le mani nei capelli Perché non lo fate? Ma lo sappiamo tutti perché voi volete campare Perché è facile dire Vedete come eravamo oppressi Adesso siamo liberi su quell'aspetto Oggi siamo oppressi su un altro aspetto Ma non vedo partigiani all'orizzonte Che hanno deciso di rischiare la pelle Pur di combattere per la verità e per la libertà No io vedo soltanto manifestazioni Assolutamente rassicuranti Che ci spingono a dire Oh ma che bella questa cosa che non avevamo E adesso invece ce l'abbiamo Perché questo è facile Invece farsi sparare addosso metaforicamente Forse per fortuna Oggi beh è comunque brutto È un qualcosa che non tutti accettano Perché se oggi tu un film lo fai veramente Sui problemi attuali Beh il film probabilmente Al cinema neanche ci arriva Posto che tu riesca a trovare i soldi per farlo E allora di che cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando di canzonette Stiamo parlando di prodotti di intrattenimento E allora vabbè Se è questo guardate Ottimo prodotto di intrattenimento Come ho detto prima E beh non c'è altro da dire Perché tanto siete stati rassicurati no? Vi piace l'Italia repubblicana E col suffragio universale Beh godetevela Andate fuori e godetevela E tranquilli va tutto bene Perché i nostri diritti Finalmente li abbiamo conquistati Andate in pace E anche un po' a fare in culo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti